Si tratta proprio di sicurezza, di sicurezza per noi cittadini e di decoro anche perché insomma io non sono disposta a vivere in una discarica. Io pago le tasse, faccio tutto bene, normalmente mi comporto bene, quindi pretendo anche che l'amministrazione prenda dei provvedimenti. Al sindaco Brugnaro, ma anche al prefetto di Venezia di intervenire quanto prima per ripristinare l'ordine pubblico in questa zona, perché è diventata assolutamente invivibile. Questo era l'appello ai nostri microfoni di alcuni residenti di via Rizzardi, angolo piazzale Giovannacci a Marghera, stanchi della situazione che sono costretti a vivere ormai da troppo tempo. Nell'ex negozio di biciclette e ora all'asta c'è di tutto, droga, bivacco, sporcizia, degrado. Oggi è arrivata la risposta dell'amministrazione che in questo caso non può agire del tutto liberamente. I cittadini sanno che sono diversi gli interventi che hanno fatto le varie forze di polizia. Ahimè parliamo di una situazione che ha carattere privato, che non dovrebbe mai fornire questo tipo di condizioni perché si crei poi luogo di degrado, di ricovero di persone disadattate, ma anche di spaccio o di consumo dello stesso spaccio. In questo senso credo abbiano assistito a numerosi interventi. Sulla questione però siamo prossimi a una soluzione, quantomeno questo è quello che ci auspichiamo. Si sta cercando di dialogare anche con il curatore falimentare che è quello che sta trattando la vicenda. In questo senso ci auguriamo anche che si trovi la giusta collaborazione per metterlo ulteriormente in sicurezza. L'assessore sa bene cosa stiano vivendo i residenti della zona. La nostra parte continuiamo a farla. L'area è comunque monitorata e nonostante i vari sgomberi questi ritornano. L'unica soluzione è liberare definitivamente l'immobile da questa distanza falimentare e portarlo a nuovo proprietario che ne faccia un vero uso di questo immobile, riqualificandolo e quindi riportando serenità e sicurezza nel quartiere.